Siamo con l'OCT della Nazionale di Nuoto Paralimpica Riccardo Vernone, qui al ritiro del Centro Federale di Ostia. Come prosegue l'OCT? La squadra in che condizioni l'ha trovata? Sinceramente sono molto soddisfatto, nel senso che mi aspettavo che i ragazzi venissero a questo collegiale, ovviamente con una preparazione ad hoc. Sfrutteremo questi giorni non solo per far conoscere i nuovi e amalgamare la vecchia guardia con i nuovi arrivi, ma noi negli anni abbiamo sempre visto che collegiali di almeno una settimana hanno portato dei benefici pratici a livello di performance all'obiettivo che quest'anno, come sapete, sono gli europei di Dublino. La squadra cresce sempre di più, diventa sempre più impegnativo seguire ogni singolo elemento? Assolutamente, ma qua ne parlavamo anche con i colleghi dello staff tecnico. Secondo me da questa esperienza, perché è un'esperienza unica, considerazione che abbiamo 27 su 28 atleti qui presenti ad Ostia, con classi sportive che vanno dalla S2 fino all'S14, c'è esigenze totalmente diverse e per fortuna abbiamo avuto la disponibilità anche in collaborazione con i colleghi della FIN avere un congruo numero di spazi e acqua di corsie e abbiamo diviso in vari gruppi e quello che uscirà fuori da questa settimana di allenamento sarà molto utile anche secondo me come presentazione di lavoro su un'attività paralimpica di alto livello anche nei vari corsi di formazione che faremo con la FINP. Può essere anche propedeutica questa esperienza per il Biennio Olimpico che si apre praticamente adesso? Sì, per farvi capire quanto poi Dublino sia un obiettivo importante, ma già abbiamo la testa completamente in Giappone e a fine settembre con molta probabilità mi regherò in Giappone, sia a Tokyo che in una città al nord di Tokyo perché andremo a valutare delle situazioni di collegiale presso l'università giapponese. Questo sempre per cercare di aumentare la qualità del servizio che facciamo con i nostri atleti. Primo storico collegiale insieme alla nazionale FIN, che cosa può portare al Nudo Paralimpico questo tipo di esperienza? Io penso che sia un'esperienza che porterà tanta conoscenza a entrambe le realtà, perché poi la cosa curiosa, ovviamente io sono abituato a vedere queste cose, però quando entri qua e non è una gara ma sono allenamenti, hai difficoltà a capire chi siano gli atleti della FINP, e ne accorgi soltanto dagli allenatori che stanno a bordo vasca. Già sappiamo di qualche atleta di livello FIN che si chiedeva come un ragazzo non vedente potesse nuotare in una maniera di un livello tecnico così importante. e diciamo che è un'esperienza che non deve essere, speriamo, non più un'esperienza, ma una costante da oggi fino almeno a Tokyo. Anche perché molto probabilmente si può arricchire sia un settore che l'altro dividendo insieme degli spazi, sei d'accordo? Sì, sì, sono d'accordo, ma nel senso che il nuoto non è tutto scritto, o meglio, l'evoluzione che c'è stata nella metodologia di allenamento è sempre costante e storicamente comunque sia, anche se parliamo di psicomotricità, se facciamo un discorso generale non soltanto legato al nuoto, la base è sempre stata, sempre la scuola francese, sull'insegnamento a persone con disabilità, cioè persone che oggettivamente hanno delle funzionalità ridotte e si riesce comunque sia a portare a un livello tecnico, non solo prestativo, ma anche come pura tecnica, a un certo livello, può essere comunque sia di stimolo da parte degli allenatori finne in quello che potrebbero essere anche esercizi prevedeutici per lo stile, per i vari stili. Va bene, ringraziamo il CT Riccardo Pernole, salutiamo gli spettatori dal Centro Federale di Ostia, è tutto. Grazie. Grazie.